La sua unica preoccupazione la mattina era timbrare il cartellino, poi poco dopo si allontanava dal posto di lavoro l'azienda sanitaria provinciale 2 di Caltanissetta per sbrigare le sue faccende personali. Fare la spesa, andare dal meccanico, parlare al bar con gli amici, insomma, nelle ore di lavoro un impiegato a cinquantenne di Gela faceva davvero di tutto, tranne che il proprio dovere. Facile immaginare che sulla sua scrivania le pratiche si accumulassero. I carabinieri per alcune settimane lo hanno tenuto sott'occhio, pedinato e filmato con una telecamera nei suoi spostamenti in città per il disbrigo di faccende private durante l'orario di lavoro. Nel loro rapporto i militari scrivono che il servizio iniziava tra le 9 e le 9.30 e terminava tra le 10.30 e le 11.00, dopodiché l'uomo faceva di tutto tranne che l'impiegato pubblico. La condotta dell'indagato era talmente abituale e radicata, scrivono gli inquirenti, da apparire come un comportamento ormai ordinario, tale da non destare nel dipendente pubblico la minima preoccupazione o paura di essere scoperto. Ora deve rispondere di truffa continuata ai danni di un ente pubblico. Ad inchiodarlo molti elementi, nel registro delle presenze sequestrato alla procura di Gela, il dipendente denunciato risultava regolarmente presente dalle 8 alle 13.00, ma i fatti smentiscono tutto questo.